All'interno della rassegna Sipario si legge, il palco del Teatro Fusco a Taranto ha ospitato la presentazione dell'ultimo libro dell'autrice abruzzese Donatella di Pietrantonio, Borgo Sud, edito da Inaudi. Si tratta in realtà del seguito diretto della precedente opera dell'autrice, l'Arminuta, e come ci si aspettava Borgo Sud conserva il marchio di fabbrica di Donatella di Pietrantonio, un'ambientazione vicina al vissuto della scrittrice, quella che dipinge un abruzzo aspro ed ostile nei confronti della protagonista, che fa da sfondo all'analisi degli aspetti più reconditi del rapporto madre-figli. Borgo Sud riprende dunque il racconto delle vite delle due sorelle protagoniste del precedente capolavoro dopo molti anni dalla fine del primo romanzo, concentrandosi quindi non più sul rapporto tra due ragazze, ma tra due donne diverse cresciute in un ambiente aspro, dal quale sono uscite con grande fame ed amore. L'evento è stato realizzato in collaborazione con la libreria Ubic ed ha visto, oltre alla presentazione dell'opera, anche un dialogo tra l'autrice Gianmarco Sansolino, giornalista di Antenna Sud, con interventi dell'assessore alla cultura Fabiano Merti e di Antonio Smiraglia della libreria Ubic. La scrittrice ha cominciato a pubblicare i suoi romanzi nel 2011 con Mia madre e un fiume, seguito poi nel 2013 da Bella Mia, romanzo che dà voce all'estrema sofferenza figlia del terremoto dell'Aquila del 2009, opera candidata al premio Strega e vincitrice dei premi Brancati nel 2014, e che le vale il premio internazionale Città di Penne Mosca nel 2020. La consacrazione arriva nel 2017 con l'Arminuta pubblicato dai Naudi, che le vale il premio Campiello ed il premio Napoli nel 2017. Dallo stesso libro è stata tratta nel 2019 anche un'opera teatrale, realizzata e prodotta dal Teatro Stabile d'Abruzzo con la regia di Lucrezia Guidone.